Cari amici, cari amiche, il 26 gennaio 1955 Piero Calmandrei come sappiamo fece un bellissimo discorso profondo ai giovani sulla Costituzione, quella data, la stessa data è la data della mia nascita e quindi questo legame un po' affettivo e non solo me lo sono cullato, coltivato dentro proprio come anche un riferimento e come indicatori così per valutare il tempo mentre man mano che crescevo, poi l'ha forzato da un imperativo di Gesù che dice sapete quando piove, sapete capire quando c'è il sole, perché non valutate da voi stessi questo tempo e perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto e quindi è importante avere consapevolezza conoscenza, capire il senso delle cose, informarsi, essere dentro le realtà interiori come le talità sociali nelle relazioni, l'ha forzato poi da quel motto di Don Milani che è come noi sappiamo di I care, mi importa, il contrario di quell'orribile motto fascista di qualche anno prima che invece diceva me ne frego. Vangelo e Costituzione lo sono le mie bussole come lo sono state per tanti preti, lo sono per tanti preti, alcuni ne ho conosciuti con grande amicizia come Don Renzo Fanfani e poi come Don Andrea Gallo che in un libro di sana e robusta Costituzione appunto dice che come partigiano e come soggetto dotato di una scienza civile la prima sua bussola è la Costituzione e come cristiano è il Vangelo. Quindi il 25 aprile, festa liberazione e primo maggio, sono due appuntamenti che costringono i conti, è paradossale il tragico dover notare che ci siamo armati fino ai denti contro il nemico che non sappiamo nemmeno qual è mentre siamo colpiti da un moscerino che come dice il dottor Tamino è una reazione allo stato di stress che abbiamo causato al pianeta. E' importante celebrare il 25 aprile, è importante celebrare il primo maggio. Com'è stato importante per noi cristiani celebrare la Pasqua, che la liberazione dalla schiavitù, qualunque forma di schiavitù è sempre un peccato, lo sappiamo bene, deve essere netto e ci sono delle schiavitù che sono sottili, che non sembrano ma che ci schiavizzano in modo molto più forte di altre, di antiche schiavitù. Conoscenza, consapevolezza, indignazione, resistenza al sistema. Sì, un sistema in cui, come noi sappiamo, viviamo dove il 10% della popolazione mondiale consuma i beni del 90% dei beni prodotti dal mercato, creando per di più la gravissima crisi ambientale che già oggi uccide 8 milioni di persone all'anno. Eppure siamo terrorizzati dal coronavirus, mentre questo sistema ne ammazza molto e di più ogni anno, senza che questo ci disturbi. La crisi ecologica costruisce una minaccia alla stessa sopravvivenza. Eppure i governi non riescono a fare delle scelte forti, decise. Questo sistema è profondamente ingiusto e chiaramente può leggersi solo perché chi ha è arramato a fine lenti, soprattutto con armi nucleari. Le armi nucleari proteggono i privilegi e i sopprusi e gli sfruttamenti. Per capire l'importanza del capitale delle armi per difendere questo sistema basta rileggere i dati delle spese militari. Nel 2019, l'anno scorso, a livello mondiale abbiamo speso 1.822 miliardi di dollari, pari a circa 5 miliardi di dollari al giorno. L'Italia ha speso ben 27 miliardi di dollari. Nonostante le proteste, tutti i nostri governi in questo decennio hanno trovato i soldi per comprare i 90 aerei F-35 che possono portare bombe atomiche che ci costeranno 130 milioni cada uno. Ed ora in piena crisi di coronavirus con la chiusura di fabbriche non essenziali, come le ha definite il governo, il governo decide che il settore militare è strategico e quindi i lavoratori delle fabbriche d'armi devono continuare a produrre. Come possiamo parlare di pace? Un virus che forse ha ammiettuto ancora più vittime nel nostro paese perché abbiamo smantellato la sanità pubblica, dandola in pasto ai privati. In dieci anni i nostri governi hanno tagliato ben 37 miliardi di euro privando i nostri ospitali tra i 40 e i 70 mila posti letto. Papa Francesco il 27 marzo in quella piazza vuota prega così «Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti pensando di rimanere sani in un mondo malato». Questa emergenza noi sappiamo ci sta insegnando che le vicende dell'esistenza rimescolano le carte e a volte in maniera improvvisa, rivelando la nostra realtà più fragile. Ci ha fatto comprendere quanto è importante la solidarietà, l'interdipendenza, la capacità di fare squadra per essere più forti di fronte a rischi e avversità. L'emergenza sanitaria porta con sé una nuova emergenza economica e nulla sarà come prima per le famiglie nel mondo del lavoro, nel mondo della sanità e giorno dopo giorno comprendiamo il serio rischio che grava su molti lavoratori e molte lavoratrici e con questa precauzione nel cuore che ci apprestiamo a festeggiare il 25 aprile e la festa del primo maggio quest'anno. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo della Costituzione numero 3. Vorrei concludere richiamandomi a una lettera che Milano escrisse ai cappellani militari per questa questione di italiani e stranieri, queste distinzioni che sono veramente nocive di mettere i poveri contro uno contro l'altro. Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Io vi sono la mia patria e gli altri i miei stranieri e se voi avete il diritto, senza essere chiamati dalla Coria, di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente, anzi erochemente, squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi e almeno nella scelta dei mezzi sono migliori di voi. Le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare e distruggere, farò orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruenti, lo sciopero e il voto. Uniti nell'unica lotta contro i tre nemici comuni, il virus, il riscaldamento del pianeta, le disuguaglianze socio-economiche, slendiamoci intorno alle nostre comunità, facciamo comunità, facciamo rete per dare forza alla comunità nazionale e a quella planetaria. a vederci. a vederci. Grazie.